ciao a tutti in questo video volevo parlare di due cose particolari del cat s60 quello che è il dual sim praticamente e quello che sarà la videocamera termica questa è la scatola con cui vi arriva il telefono una cosa che mi ha colpito abbastanza che la prima volta che lo vedo sulle scatole dei telefonini erano i sigilli di sicurezza con sopra scritto chiaramente non accettate il prodotto se questo sigillo è rotto per me è proprio la prima volta solitamente erano tutti dei sigilli che si potevano togliere e rimettere invece questo qua no va proprio spaccato per aprirlo contenuto della scatola sono due erano i due libretti di istruzioni il caricabatterie usb con l'adattatore da 220 volt il telefono e una pellicola per proteggere lo scherbo da eventuali graffi non c'erano le cuffiette questa è una cosa un po strana che sinceramente non mi servivano neanche ma comunque trovo strano che non hanno fornito le cuffiette all'interno della scatola le particolarità di questo telefono mattonella devo dire ha un discreto peso siamo sui 230 grammi poco meno ed è spesso un centimetro e due un centimetro e tre è abbastanza diciamo relativamente scomodo da tenere in tasca compensa il fatto che comunque antiurto supporta cadute da un metro 80 di altezza e subacqueo fino a due metri o cinque a seconda della posizione di questi switch qua che non sono altro che dei diaframmi che vanno a chiudere gli altoparlanti e ha la camera termica incorporata sulle istruzioni è specificato di fare particolare attenzione che tutti gli sportelli siano ben chiusi prima di immergerlo nei liquidi perché potrebbe entrare da lì l'acqua vi faccio vedere il vano delle sim e della sd card e questo qua sono due nano sim con la sd card sopra anche qui controllate bene che non ci sia della polvere o della sporcizia là dove la guarnizione andrà a chiudere le due sim altrimenti potrebbe entrare alto brevemente la scheda tecnica ha un processore snapdragon 617 3 gigabyte di ram e 32 gigabyte di rom si può anche mettere la sd fino a oltre 200 giga ed è un 4g vi mostro come gestisce le due sim marshmallow a differenza del vecchio android che avevo prima quando andavo a comporre un numero avevo le due immagini del telefonino cioè vuoi usare la sim 1 per la telefonata o la sim 2 qua invece bisogna preimpostarselo prima bisogna andare nelle impostazioni schede sim puntare su chiamate e lui farà la scelta chiede ogni volta faccio un po di pubblicità alle nostre reti sunrise o en budget mobile se chiedo se spunto la chiede ogni volta ogni volta che faccio il numero di telefono quando voglio far partire la chiamata il telefono mi chiederà questa sim o quella altra invece se ne predispongo una di default lui le chiamate le farà uscire sempre con quella lì che ho appena scelto chiaramente le due sim sono attive sempre in entrambi i modi se io sto chiamando con una sim ricevo una chiamata su quell'altra ci sono varie impostazioni per farla risultare occupata oppure farlo squillare effettivamente sulla seconda sim poi appare la scelta se rifiutare la chiamata o rispondere tenendo in sospeso quella che si stava facendo adesso vediamo la caratteristica principale che è quella della telecamera termica ci metto un attimino a partire questa è la camera termica della flir può scattare foto registrare video e anche video in time lapse adesso vi farò vedere più o meno cose capaci di fare una cosa che ho notato se potete vedere l'altro mio video che ho recensito la se creve al trovo un po più pratica la flir perché mi dà la temperatura massima la minima e la media direttamente di quello che sto inquadrando non devo proprio andare fisicamente a puntare l'oggetto caldo per sapere che temperatura me lo dice lo stesso in questo caso temperatura massima 32 gradi quella della mano la minima 22 se tolgo la mano vedete che cambiano i valori adesso facciamo un paio di prove per vedere a quanto riesce a rilevare un oggetto caldo quella è una bottiglietta che ho riempito di acqua calda me la dà a 51 gradi e vediamo fino a che punto mi allontano sempre di più vediamo fino a che punto la riusciamo a vedere sarò a 5 metri in questo momento così sono 10 metri più o meno vedete circa 15 metri a questa distanza qua anche se continuano ad allontanarmi si vede che lì c'è qualcosa di caldo ecco questo punto qua comincia a fare fatica una cosa particolare è che quando vado a scattare una foto quando vado a editarla posso vedere com'era senza l'immagine termica con la termica e senza per rendersi conto più facilmente di cosa si sta inquadrando questo è un video fatto con la termica ma sempre la solita bottiglietta di acqua calda in mano può vedere che se la rovescio per terra posso vedere il calore dell'acqua una cosa che mi ha piacevolmente sorpreso il test l'avete visto prima con una bottiglietta d'acqua ma qua ero sul laghetto un bimbo che pesca e dall'altro lato del laghetto due persone riesce a rilevarle il laghetto era abbastanza largo diciamo che un 30 40 metri di distanza una persona riesce ancora a vederla le caratteristiche del sensore FLIR che monta ha una frequenza di 9 hertz poco meno di 9 hertz è una risoluzione di 80 x 60 pixel con un range di temperatura rilevabile che va dai meno 20 ai più 150 gradi se un oggetto ha più di 150 gradi dice maggiore di 150 e si ferma lì in compenso è abbastanza preciso ha un margine di errore di 0,1 gradi spero il video vi sia piaciuto io non ho fatto i test di immergerlo nell'acqua e buttarlo per terra perché sinceramente ci tengo al telefono anche se sono cose garantite sul libretto di istruzioni qua ho notato che non hanno scritto questa cosa qua ma il venditore dove l'ho acquistato ha delle sue istruzioni che dicono di evitare di buttarlo in terra o immergerlo volontariamente nei liquidi il telefono diciamo è stato fatto sì con le certificazioni ip68 ma c'è sempre il rischio chiaramente che quando lo si immerge entri dell'acqua che lo può danneggiare se avete delle domande da fare scrivete pure sotto io auguro a tutti una buona estate alla prossima ciao ciao